Sabato andremo a affrontare la seconda potenza in classifica, consapevoli di dover lavorare tantissimo su di noi, infatti durante la settimana ci siamo concentrate estremamente sul nostro gioco e su delle dinamiche interne di gioco che sicuramente sono da sistemare e su cui stiamo lavorando, consapevoli che migliorandoci singolarmente andremo poi a migliorare quello che è l'assetto di squadra, quindi sono sicura che ci sarà una bellissima partita puntata in primis su quello che siamo noi, su quello che siamo capaci di fare e su quello che possiamo dimostrare.